Però nel mio piccolo ho dato anche un'idea dinamica diversa, molto attuale, cioè che i nani siano in realtà i finanzieri tossici che nel corso degli ultimi anni, rubando soldi che non valevano nulla alle nostre spalle, hanno causato la crisi mondiale di cui ora forse si vede l'uscita, ma che ancora c'è prima. Il denaro dei nani e poi suoneremo la tempesta. Ora te la canto, conta che canto, ho visto il tesoro nella grotta dei nani e ora te la canto, conta che canto. E ora te la canto, conta che canto. Ora te la canto, conta che canto e uno e due e tre e quattro e su alla porta mi sento gridare pazzi di rabbia e ora te la canto, conta che canto e uno e due e tre e quattro e cinque e sei e sono sul tetto, mi sento ballare, mi sento pimpiare e sopra la mia testa, il denaro dei nani non finirà, il denaro dei nani non farei più Ora te la canto, conta che canto e uno e due e tre e quattro e cinque e sei e sette e otto Ora te la canto, conta che canto e uno e due e tre e quattro e cinque e sei e sette e otto e nove e dieci Non mi sento pimpare, mi sento pimpare, mi sento pimpiare, mi sento pimpiare, solo senza frattare Il denaro dei nani non finirà, il denaro dei nani non farei più Grazie a tutti. Grazie a tutti.